Piazze europee caute in chiusura di seduta. I principali panieri del vecchio continente hanno ridotto i guadagni della giornata dopo l'avvio in perdita di Wall Street, che attende la pubblicazione delle Minute della Banca Centrale Americana. Al termine delle contrattazioni Milano chiude in territorio positivo, guadagnando lo 0,14%. Andamento analogo per le consorelle con l'eccezione di Londra, che perde al termine della giornata lo 0,19%. A Piazza Affari maglia nera per il titolo Fiat Chrysler in rimbasso di quasi il 4%, che sconta una serie di prese di profitto dopo i rialzi dei giorni passati. Le vendite colpiscono poi Tenaris e Saipem. Forti guadagni invece per TOTS, Atlantia e ST Microelectronics.